Professor Moro, qual è il valore aggiunto di queste cooperazioni con i Visiting Scientist? Allora, l'Università Italiana è stata per tanti anni chiuda in se stessa, ormai non è più possibile rimanere al nostro interno, bisogna aprirsi, perché il mondo della ricerca è un mondo ormai globale, la ricerca si fa con università in tutto il mondo, abbiamo ormai mezzi di comunicazione che ci permettono ogni giorno di parlare con i colleghi in ogni parte del mondo. attraverso software di comunicazione. Il programma Visiting Scientist però ci dà la possibilità di avere a fianco a noi il nostro collega, poter discutere con lui a quattro chi è sempre comunque un valore aggiunto rispetto al parlare attraverso metodi virtuali, comunicazione. Quindi è un ottimo programma, speriamo che l'Università continui a proporlo in futuro perché è veramente utile per noi.